Oh, sia un filmato d'epoca, però non dovrebbe essere a colori. Un receptacle. È un receptacle per le energetiche per attraverso, e lo hanno fatto. Non abbiamo i dettagli, ma quando le cose iniziarono volare al disc, è stato trasferito a noi. È un obiettivo di potenza. O.O.P. O.O.P. E può lanciare le cose telekineticamente nel l'air. Per oggi, abbiamo lanciato... magari... tre due pezzi. E una volta... abbiamo lanciato una coppa. Ma? C'è tipo questa stanza... non si vedeva da qua. Dovendo appunto se magari ad un certo punto si aprono delle altre, non sembrerebbe... qui dove che va? Eh, ho detto io che non è proprio... ci si può perdere un po'. E la corrispondenza quale sarebbe? Vabbè, andiamo avanti. comunque non è sottotitolato queste frasine qua c'è questi dialoghi qua non sono è propenso a indagare un po' Sì beh guardando così certo che anche Cyberpunk potrebbe essere giocato in terza persona però il seguito dico ma lo dico perché mi sembra che a fine di Alan Way cioè del DLC di Alan Way ne ho parlato il fatto che lì che c'era un circolano delle voci che probabilmente il prossimo poteva essere in terza persona ok scritto là adesso da un'autorizzazione ecco però bisogna tornare indietro e questo è il punto abbiamo già visto una porta qua per esempio ah vabbè questi sono i bagni sono aperti poi una torsia che è un casino è un casino sta mappa infatti magari ci parliamo dei modi importanti e documenti interessanti ok c'è un altro qua ok c'è un altro qua Grazie a tutti 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 Potete saltare Doppio click Mandate avanti Ma questa non sembra una radio Comunque in teoria questo è uno registratore Non è una radio Via chiusa Non mi dicevi che livello richiedeva però si è aperto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Ok. Cioè. Penso e spero che ce l'abbia dato qualcosa che era qua. Vediamo se si vede. Non ce l'ha dato. Credo che sia impossibile entrare o uscire. Ma che cavo. Qua appunto. Sono riapparsi. Io voglio sapere se i collezionabili. Quanto meno li abbiamo tenuti. Non so, sembrava assurdo. Cioè, probabilmente dobbiamo aumentare la nostra vita per entrare. Però adesso in questo momento non saprei. Questi ci seguono fino a qua. Vabbè, prendiamo qua. Allora, abbiamo salito di qua. E guardiamo qua, per esempio. Qua c'era dentro. Ok, risulta preso. Tommasi. Troppo di stanti. Qua c'era dentro. Stanti. Eh, ma non si può recuperare. No, ho usato un goccio. Che cosa è stato? Istantaneo? Che cavolo è colpo? Questo era quello che parava prima, Tommasi. Ma dai, dovevi stare in memoria sta roba, dai. Poi ho 64 giga di rama, che cavolo. Devi ricaricare, devi risettare solo le cose e basta. E poi dico, boh, cosa c'è? Niente. Sì, ma cos'è un sito questo qui? Una roba... Da provare più vicino. Da provare più vicino. Ma sta cazzo. È la prospettiva. È una centrata che mi ha dimensiato la vita, anzi. Ma che palla. Ah, che velocità che spara. Vabbè, tanto vale morire di nuovo, non è che... Ok. C'è due, praticamente ne prende due. Non possiamo cambiare spalla, vi? Sì, vi. Ma che cazzo? Ah, è stato un colpo di pistolina, probabilmente. Va bene. Sì, 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 sì. Ma io stavo facendo qualche danno. No. 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 In realtà anche il nostro viaggia. Non abbastanza per lui, ma per quelli lì. Che serve andare alla raccoglie. Le cose no? Sei intuitiva come le donne possono esserlo, caspita, ci sono tutte le scale che salvano sempre qua Non c'è niente qua C'è questo Ok, l'uscita di prima Ah beh, andiamo là Alberto Tomasi Non devo, non devo, non devo cliccare Ok, guarda Ok, guarda La situazione in Cuba ha stato evaluato da autorità relevante Sembrava anche un simpaticone Ok, guarda Ok, guarda La hotline non può essere lì Che è quel corridoio lì in mezzo sotto la scritta dipartimento comunicazioni mi sembra Il fatto è che non abbiamo, come avevamo detto, non abbiamo vita sufficiente Non credo Se vai provare, ma Trenz, Trenz, Trenz E il custode Salute più 18% Poi provare Poi proviamo a mettere questo, poi vediamo se ce la facciamo Accuratezza Danni contro la corazza Esclusivo per frammontazione Quindi è casuale Danni, armatura, arma 41% Danni, armatura, arma 39% Quindi questo qui smontiamo a 50 Tra l'altro Qua Questo È il punto abilità Che diceva Ma non abbiamo ancora Ma non abbiamo ancora Posso? Posso? Posso camminare? No Vabbè Che continuano a perdere Mille alla volta Abbiamo già perso 3.000 Cos'è? Più Eh, non lo so cosa dobbiamo fare Partiamo da qua Che palla Dato che siamo qua Proviamo a vedere se ce la faccio Tanto È un tentativo Tanto avrei voluto tornarci comunque Ce l'abbiamo su Sì Va 20% di cose in più Ma non lo so Via Diretti 1459 No Non era Punto abilità L'abbiamo preso prima Allora Pensavo che coincidesse Mi sembrava che arrivando lì Fosse Fosse uscito scritto Punto abilità E c'è una cassa E credo che non l'abbiamo presa Vabbè Vediamo un secondo E poi andiamo Non lo so Io l'ho aperta Però non ho letto cosa Sì In teoria risulta aperta Ma questa roba come facciamo? No Qualcosa abbiamo preso No Qualcosa abbiamo preso Immagino che con la Q ci sarà un altro potere Perché per ora Che cazzo l'ha mancato? Ancora questo stronzo qui Dove sarebbe? Per parentesi Qua c'è qualcosa? Qui c'è qualcosa Beh queste sono cose triviali Dove è il mister lanzarazzi? Dove è? Dove è? Dove è? Dove sto sparando? Apprezzo Apprezzo Comunque ci sia un punto Che dall'altro Sembra l'unico punto Cioè se non li colpisci lì Non gli fa niente mi sembra Oh Quindi noi cosa succede? Il pare che i telefoni sono di là Eh Adesso che abbiamo fatto questo Unition Il mazo Un'imposizione Si sta attento al Non sono entrato all'indietro Il supermiss, è proprio qua. Mostra un'abilità simile alle competenze telecinette che ho osservato nei parautilitaristi dell'agenzia. Alcuni preferiscono caricare i propri bersagli, altri preferiscono lanciare oggetti contro di loro. I telecinetti sono stati inefficaci contro i supermiss proprio a causa del loro talento in questo campo. Non usano armi, eccetto le loro capacità paranaturali. Vabbè, indietro di prodotti durante le sessioni cognitivi di parapsicologia. Non lo so, continuo a andarmi di lì. Trovo l'oggetto del potere telefono rosso. Aspetta un'altra... No, sentro questo. Eh, sentro e spengo, eh? Ah, forse l'ho distratto. No, sentro e spengo a molti motelli di parapsicologia all'interno del paese. Allora, 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 allora. No, sentro, allora, 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 allora.